eccoci qua siamo qua con i ragazzi una sfida di eco in questa valcane famosa per kamoshi stambecchi e la sua perfetta acustica il king è pronto dico eccoci qua seconda sfida stavolta sarà francesco mondini a sfidare il king of the mountain nicola berardi questa valcane sempre più pazzesca anche se è un po' coperta silenzio nico o sono tre guarda potresti farcela è difficile ma e